Alla ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video della nuova Pixelmon Prima di iniziare volevo dirvi che in questo preciso istante sono in live sul sito Viola con la vanilla insieme a voi, quindi insieme ai sub Mi raccomando il link è stato in descrizione, vi aspetto tutti quanti Detto questo, come sempre, quello che adesso andrete a vedere sarà un riassunto delle due live che ho fatto appunto sul sito Viola E successivamente ci sarà una clip dove vi mostrano anche altre cose, soprattutto anche come installare la Pixelmon per entrare nel server Detto questo ragazzi, mi raccomandoci un mega mi piace, un commento qua sotto e possiamo iniziare subito Vediamo un pochettino, qua abbiamo tutte le persone da sfidare e anche di qua, bene Raga, iniziamo subito questa live con lo sfidare una palestra Allora, mosse, adesso giga assorbimento A questa, un altro War Total Glacione, aia, aia, aia Beh, qua andrei a cambiare ragazzi, Teplution Eh, qua andiamo con Teplution, mosse, lanciafiamme, ciao Rip, posto Poi vediamo chi ci lancia, vediamo chi ci lancia ragazzi Abbiamo vinto la battaglia, ottimo Ora muore con attacco rapido, ecco Ok, un altro Pokémon di tipo Ghiaccio, vai Papa, eh Oh yes Oddio, subito così mi ha preso Aia, eh raga, qua dobbiamo Sperare di farci perché già Stiamo finendo le mosse Abbiamo vinto la battaglia, easy Anzi no, fino al campione non voglio utilizzare Pokéial Proviamoci, ok Vai La Odio Lapras Vai Serperior, mosse, parassi seme Subito Ci ciucciamo la vita E mo, instant giga assorbimento Eh, è shottato raga, è shottato Abbiamo vinto anche questa battaglia Raga, e andiamo con Serperior Vai Allora, il livello 100 Ok, sei Pokémon Va bene, ok Allora, scegliamo naturalmente tutti i nostri Pokémon Ok Confermiamo Cloisel, benissimo raga No, perché sono andato con Teplution? Ho sbagliato Raga, mando Poliswag Vai Idropompa Ai Uff Niente Nota se è un idropompa E c'è morto anche Poliswag Raga, è tempo di Necrozma Allora Fodongyzer Ai, ai Fermo, basta Vuoi morire? Oh, no Sì No raga Tanto così Così Niente, no, no, no Dove riprovarci Allora, Pokéial Andiamo subito con Teplution Quindi vai Ok Facciamo Teplution Vabbè, così, dai Confermiamo Puoi essere Vai subito con Marchiatura Ok È andato No, no Ok, è morto È morto È morto È morto Bene, bene, bene Lanciafiamme è stata un'ottima mossa Possiamo provare, ragazzi Con Ancora lanciafiamme, volendo Teplution Marchiatura Se va a segno Abbiamo una speranza di vincita Luce lunare Eh, mani anche Perché ha ghiacciato Ce la facciamo a fare idropompa? Raga, è difficile Avete consigli per strategia o altro Con questa squadra? E confermiamola Con Cloyster Raga Lanciafiamme A posto Bruciato E vabbè Ok Qua mi hai detto di cambiare Pokémon Ma comunque Il nostro Teplution Se gli fa un Marchiatura Niente Non ce l'ho fatto Ok No Ho miscliccato Ho miscliccato No Ok, raga Mamoswine Io faccio una cosa La provo intanto Facciamo luce lunare Bene Ho misclicato Tantissimo Possiamo provare Un gemmo forza Photom Geyser Infatti Sto pensando anche io A questa mossa Che Gli ha fatto abbastanza male E adesso Facciamo di nuovo un altro Luce lunare Ci recuperiamo la vita Ok Mosse Di nuovo Photom Geyser E Mamoswine È andato Jinx Ecco Con Jinx ragazzi Non posso fare queste mosse Posso provare con una gemmo Forza Me l'ha addormentato Mannaggia a lui Ok Ok Mosse luce lunare No Sono più veloce Ok Con Jinx Ora I Sineror Mosse Facciamo Morso Ok Abomasnow Raga Abomasnow Qua Posso farci fuoco carica Che gli facciamo un botto di danno Proprio andiamo il contraccorpo Che ne pensate Morso con Abomasnow È fuoco carica È ghiaccio Cioè Gli facciamo malissimo E mi ha confuso No ma pure addormentato Fuoco carica Ti vuoi svegliare Dai 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 Non si sveglia Oh Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Ce l'abbiamo fatta 100 bit GG Grazie mille Nicola Grazie mille Dai Uh Tecolle Abbiamo adesso anche la medaglia Ghiacciolo Ragazzi Mettiamo subito il nostro bellissimo backpack Raga Qua troviamo un pokemon Che Mamma mia Mamma mia Ti prego Ti prego Ti prego Sì Aspetta Un insinoror Però Zombie Ma io trovo tipo il pokemon Già ce l'avevo È un insinoror zombie Raga Cambia Sì Fermo Fermo Cosa Dragon Notte Sferza Un Yaguse Fulmiscua Lo sapete Comunque come poco Non è tanto male 621 Eccolo qua Uh Eh sì Raga Sì Sì Originale Molto più bello Molto più bello Raga Sono confuso È piccolissimo E si chiama Xernias L'emerald Cespuglio Purtroppo nessuno di voi Ce l'ha ancora Perché nessuno ha shoppato La Sub Tier 2 Peccato Comunque Raga Io se non abbiamo un po' di tipo elettro Direi che dovremmo cercare noi poi un Moltres Servirà quindi la roccia Eh la pietra Pietra elettro Ci servirà Ora Se io faccio pokemon E metto Serperior Serperior Si addormenta Appunto Moss Bellissimo adesso Giga assorbimento Opla È andato Ci può andare a mettere un giga assorbimento più Miloti Ciao Miloti Che bellissima Vabbè ti faccio allora Veleno Croce Aspetta perché adesso c'è insinoror Veleno Croce Ti faccio adesso pure Un sveglio pacca Ma perché ora mi cambi i pokemon Non me ne accorgo Guarda che Che cosa veramente Fastidiosa E abbiamo vinto ragazzi già la battaglia Ma Mister Creeper È fatto la sabba il tier 2 Oh yes Oh yes Stiamo facendo ragazzi Evolvere poliswag È così Diventa sempre più grosso Raga Ok Bene ragazzi Ora andiamo di nuovo con Zanguz Oh Sharpedo Tonopugno Oh Eh Sharpedo Volevi Allora facciamo Giga assorbimento Ma prendiamo veramente poco Ci fa lui molto male Raga Posso provare un verde bufera Che è Ok Perfetto Un fion Va bene Mosse Andiamo con Giga assorbimento Che ciucciamo un peccino di vita Lui ce ne leva così e così Ma noi ciucciamo ancora altra Vai È rimasto con tanta Ma quattro pokemon Noob Tuono pugno Aia Vai scendi Bene bene Aia Questa qui è brutta Raga Eh rip Eh raga Quasi adesso si va di Aspetta È tipo drago Però Con da drago Vi facciamo malissimo Vi facciamo un cacchio Posso Devo fare un'altra Eh c'è oltraggio Vi facciamo con oltraggio Ce l'abbiamo fatta Mamma mia Cloyster Ok Raga Cloyster È tipo Acqua ghiaccio Soltanto acqua Non me lo ricordo E infatti acqua ghiaccio E acqua ghiaccio Attenzione però Mostri tipo lotta Gli facciamo malissimo Poliswag C'è sveglio pacca Calmo Calmo Fermo Basta scendere Ok Eh Ma è ancora uno sveglio pacca Siedere che era quello Comunque Utilizzare Poliswag Per sconfiggere un Cloyster È abbastanza worth per me Come cosa Tentacruel Tentacruel è soltanto tipo acqua raga Quindi rip Rip Perché Se non sbaglio sono tipo acqua Acqua veleno forse E infatti acqua veleno Sì Quindi possiamo fare una cosa Raga Fantobomba qua Eh no rip Vai Ok Ottima Perché così poco è una cosa Andiamo con verde bufera Ok Non è rimasto pochissima vita Mentre la battaglia Uff Per fortuna che erano 4 pokemon raga Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Raga siamo a Siamo a 79 sub Raga come questi siamo a 79 sub Ok ragazzi Come avete visto Abbiamo ottenuto altre due medaglie Il che è veramente ottimo Probabilmente dalle prossime live Cercherò di prenderne di nuovo altre due Così pian piano Arriveremo ad averne 8 Per sfidare la lega pokemon Comunque Se ancora non avete notato In chat Ci sono alcuni utenti Che hanno quest'h Quest'h Indica che hanno shoppato il VIP Con il mio nome Che vi dà un tap illusion Iper pompatissimo Per le battaglie Vi danno un sacco di oggetti Un sacco di pokeball Un sacco di caramelle rare E soprattutto Avrete il tag H Che indica appunto Che fate parte Della ciurma Comunque Quello adesso Voglio farvi andare a vedere È praticamente Il box Perché se Invece Mi offre Slash pc Come vedete Io qua Ho dei nuovi pokemon Che hanno dei nuovi particolari Perché hanno questi Novi particolari Perché praticamente Ho deciso di dare Un nome A un pokemon A vostra scelta Per tutti coloro Che hanno fatto appunto La sub Sul sito viola Infatti Qua abbiamo One Slow Abbiamo Darklest Mutico Abbiamo Mr. Creeper E qua sotto abbiamo Fukuro Sono anche dei nuovi colorati E comunque La cosa bella è che Vado ad utilizzare Questi pokemon Anche nella mia squadra Tant'è che qua Abbiamo i spicy claw E abbiamo anche Uno che è tutto strano Ed è una storia Veramente lunghissima Ragazzi Quindi non fate tante domande Ma è un altro sub E comunque qua ragazzi Abbiamo anche altri pokemon Abbiamo un lampant Che è nuovo Abbiamo anche Un Forfru Vabbè Abbiamo ottenuto anche Un Heracross Shiny Abbiamo un Glygar Abbiamo cattolato anche Un Jigglypuff Un Altaria Un Sviper E insomma Pian piano ci stiamo Portando avanti In più ho fatto anche Una piccola cosa Il nostro bellissimo Zangus L'ho fatto livellare E gli ho dato appunto Il Tuono Pugno Se non sbaglio Esatto Che ci è tornato veramente utile Per sfidare appunto Le palestre Che avete visto Prima Come pokemon Veramente non mi dispiace Vorrei tenerlo In squadra Anche se comunque Abbiamo anche altri pokemon Molto interessanti Adesso ad esempio Ho fatto una mezza Tattica Con Togetic Dove facciamo prima Sbadiglio Poi switchiamo pokemon Insomma Abbiamo fatto Delle tattiche E le palestre Adesso Proprio le stiamo Falciando Tutte Adesso invece ragazzi E' arrivato il momento Del mini tutorial Su come entrare In questo server Visto che molti di voi Ancora non lo sanno O comunque Non l'hanno capito Tanto bene Quindi adesso Vi farò questo Mini tutorial In questo modo Potrete entrare Tutti quanti All'interno del server Ok ragazzi Eccoci qui Allora Come vedete Ho scaricato Il Technic Lounge Trovate il link Qua sotto In descrizione Per scaricarlo Dopo che andate a scaricare Dovete loggarvi Con i vostri dati Naturalmente Questo tutorial Sanno per chi è premium Per chi è SP Ragazzi purtroppo Non posso fare io Il tutorial Però comunque Se entrate nel server C'è un tutorial Appunto Direttamente all'interno del server Per chi è SP Dopo avete scaricato Il Technic Lounge Cliccate su modpack E cercate proprio Pixelmon Pixelmon Generations Official E il pacchetto Ufficiale Cliccate su install Aspettate L'installazione Quindi il tempo Che vi scarica Le mod Tutto quanto Dopo i download C'è appunto L'installazione Del modpack Fa tutte le cose In automatico Ragazzi Quindi basta Fate due click E non fare nient'altro Dopo che l'installazione Sarà finita Basta cliccate Su gioca E in automatico Ragazzi Vi aprirà Per l'appunto Il launcher Di minecraft Con già Il pacchetto Inserito E quindi Basta aspettare L'avvio di minecraft E potete entrare All'interno del server L'ip del server Lo trovate qua sotto Come sempre In descrizione E ragazzi Dopo che se entrate Nel server Vi ritroverete Appunto All'interno Dello spawn Della pixelmon Insomma Lo spawn Che avete Sempre visto Detto questo ragazzi Spero che questo video Della pixelmon Vi sia piaciuto Vi ricordo ancora Che in questo momento Sono in live sul sito viola Quindi vi sto aspettando Tutti quanti Venite adesso Mi raccomando Fate anche il follow E no ragazzi Detto questo Vi saluto Ciao a tutti